In un mese e mezzo questa è la seconda aggressione, la tratta è quella Pescara Giulianova, questa è la conseguenza di aver chiesto a un passeggero il biglietto sopra un autobus? Quando sono arrivato all'altezza di questo ragazzo ha iniziato ad alzare la voce, urlandomi addosso di tutto, allora l'ho invitato a fornirmi un documento per l'identificazione, anche se stili un verbale che poi va perso perché non hanno niente, non hanno niente su cui appoggiarti. Mi ha minacciato dicendomi che la seconda volta che chiamavo i carabinieri per lui, la terza mi avrebbe ammazzato. Io lo invitai molto educatamente, come faccio con tutti, a scendere dal pullman. A quel punto ho visto che mi stavo per sferrare questo pugno, siccome mi sono reso conto della situazione, riuscii a evitarlo parzialmente e mi prese sul setto nasale la fronte, poi gli presi la mano per non farmi colpire di nuovo, però con l'altra mano mi ha preso uno schiaffo, una botta. Qual è il vostro appello? Perché questo non è un caso isolato. Daterci un po' più di copertura perché noi siamo gente che la mattina si alza per andare al lavoro, non per fare a botte o non per fare una guerra in tringea. L'azienda dice che ha fatto questo incontro con le prefetture che ci garantiscono assistenza, che ci garantiscono quello che vogliono dire loro, ma noi da settembre che io faccio questo lavoro insieme al collega non abbiamo nessuna assistenza. Noi quando chiamiamo i carabinieri spesse volte non vengono, quando chiamiamo la polizia non viene per niente, spesse volte quando intervengono invece di identificare questo ragazzo che comunque ci ha minacciato e roba varia, facendogli a meno una parte, mettendogli un po' di timore addosso, identificano a noi, chiedono i documenti solo a noi che li abbiamo chiamati.